Agorà Società Cooperativa, ente capofila della rete costituita da Accademia Poliarte 9001, Cooperativa Cosmarche, Cooperativa Pagefa, Marche Servizi, Cipo Formazione Maxime Consulting, organizza un corso di formazione finanziato dalla Regione Marche e dal Fondo Sociale Europeo, a valere sull'avviso pubblico l'ottio di formazione professionale. Il corso di formazione denominato installatore e manutentore in piante elettrici si terrà nella provincia di Ancona. La durata è di 500 ore. I destinatari sono coloro occupati o disoccupati.